Chiama un giorno speciale allo 06 88 33 033 Benissimo, torna a trovarci Mario Vattani, Mario buongiorno, benvenuto Buongiorno a voi, buongiorno Mario è un diplomatico, adesso a Roma sei distanza Adesso sono a Roma, sono a Roma e mi occupo di Asia per fortuna Che è la parte del mondo che conosci meglio Beh alla fine sì, io sono partito, in realtà la mia carriera è iniziata in direzione opposta Perché la mia prima sede era a Washington Poi da lì però ho cominciato ad andare verso Oriente Perché dopo sono stato in Egitto, sono stato console al Cairo Da lì è uscito anche un libro, no? Recentemente Sì, sì, l'anno scorso E poi da lì, da quel momento il Giappone mi ha completamente assorbito Ma veramente ti ha assorbito? Totalmente Perché anche la mia famiglia poi alla fine è giapponese Cioè mia moglie è giapponese I ragazzi sono, non bisogna dire metà giapponese e metà italiani Sono giapponesi e italiani Certo, esatto Non ci sono ostacoli Senti, Svelare il Giappone è il tuo ultimo libro È uscito da poco Lo stai cominciando a presentare E ci racconta un paese diverso da sempre È considerato così E la globalizzazione, quanto ha cambiato il Giappone, Mario? Beh, questo della tradizione e della coesistenza L'esistenza della tradizione e della modernità è uno dei temi giapponesi In realtà il Giappone è sempre stato Nella storia si è sempre aperto e chiuso Nei secoli Noi ci ricordiamo, insomma Abbiamo visto anche dei film Ci sono stati ultimamente Silence, per esempio Un film meraviglioso In cui si vede proprio questo Giappone chiuso all'influenza occidentale Che a quei tempi, quindi dal 600 all'800 Era il cristianesimo e le armi da fuoco Poi c'è stata un'apertura Ma quello che io racconto anche Non è un libro di storia questo qui Ma è chiaro che bisogna anche spiegarle un po' questi aspetti L'occidentalizzazione, se vogliamo, del Giappone Che inizia a fine 800 In realtà non è imposta da fuori È una scelta È una scelta che il Giappone ha fatto Per non essere colonizzato Quindi è molto particolare questo aspetto La globalizzazione diciamo che viene vissuta Ma in modo pragmatico Perché loro ci sono riusciti Ed altri pur volendolo fare Non lo hanno fatto invece Non ci sono riusciti Altri paesi È vero, se si vede Il Giappone è stato poi tra l'altro Agli inizi del Novecento Il Giappone era un esempio Per tutti gli altri paesi Come l'India per esempio Che volevano insomma In qualche modo scrollarsi In questa presenza occidentale La colonizzazione Quindi che la subivano Il Giappone Si scappava in Giappone I nazionalisti indiani Fuggivano in Giappone E perché? Perché il Giappone probabilmente Per una fortunata coincidenza Capitò verso In un momento in cui Poteva ancora combattere Cioè aveva sicuramente Un'organizzazione militare Una mentalità militare Un atteggiamento se vogliamo Guerriero E quello è servito tantissimo Naturalmente Quindi quando noi Noi diciamo Noi Occidentali Siamo arrivati in Giappone Abbiamo trovato un Giappone Capacissimo di armarsi E ricacciarci Via Allora Svelare il Giappone Giunti editore Mario Vattani Ne è l'autore E Hai già detto Non è un libro di storia Non è un libro Di filosofia Forse di filosofia Insomma La loro Ma è un libro Che racconta il Giappone Molto semplicemente In maniera anche Così Su tutti gli aspetti Della vita giapponese Per esempio Il ritmo giapponese Che ritmo hanno Sì io questo L'ho voluto mettere Proprio quasi all'inizio Come se avessi voluto Dare al lettore Alcuni codici La velocità anche di lettura In qualche modo Beh L'avvicinamento al Giappone Che in fondo È sorprendente In certi casi Perché si arriva Anche in aereo La visione del Giappone È diversa Da quella che immaginiamo Noi immaginiamo Queste megalopoli Gente che Va su e giù In questi incroci Con migliaia di persone Che Occupatissime Che si incrociano In realtà Il Giappone appare Verde Una natura rigogliosa Questa ricchezza di acqua Poi Di sorgenti termali E io ho voluto raccontare Anche Un Giappone domestico Se vogliamo Io ho avuto la fortuna Diciamo Di vivere il Giappone Non solo da Appunto Avendoci lavorato Ma anche avendone vissuto La famiglia stessa La nascita Dei figli Per dire E ci sono degli aspetti Che in qualche modo Quando dico svelare Non è che io Svelo il Giappone Svelare il Giappone È più un'istruzione Forse È qualcosa che bisogna fare O che è un consiglio Diciamo Il Giappone si lascia Svelare Ma Ha dei codici Ha delle regole Ha dei tempi E io trovo che Sono felicissimo Tra l'altro Di vedere Che noi italiani Che già amiamo molto Questo paese E la sua cultura Li conosciamo In fondo I giapponesi Ma c'è una grande Una grande curiosità Il libro è andato In ristampa Dopo nemmeno un mese Dall'uscita Quindi sono Sono felicissimo Anche Anche per me È la stessa cosa Mi fa molto piacere Il Giappone Ama l'Italia Come noi amiamo il Giappone Forse ancora di più E cos'è che piace a loro Del nostro paese Per esempio Beh loro La vita di tutti i giorni Di un Giappone È molto È molto diversa È molto diversa Nei ritmi Dalla nostra Anche nelle ore di lavoro Nella scarsità Del tempo libero Anche Però il sogno Giapponese Cioè il sogno Che hanno loro Di un ritorno Quasi rustico Certe volte Alla natura Un ritorno A mangiare cose buone Di quella stagione E loro questo Lo vivono in Italia Perché loro Quando Io dico sempre Che Cioè mi capita Insomma di spiegarlo Questo agli italiani Che così come noi Per esempio Andiamo Una domenica Fuori A mangiare Una determinata cosa In una determinata stagione Mentre siamo lì Parliamo Di altre cose Che potremmo mangiare In altre stagioni I giapponesi Fanno la stessa cosa Certo lo possono fare Meno di noi Perché hanno meno tempo Ma diciamo che L'aspirazione Giapponese È simile In fondo Alla nostra Vivono bene Loro Vivono bene Sono ben pagati Il lavoro Non manca Quando Quando Io Un altro Modo di descrivere Un po' Questo libro Che ho È quello Di un percorso Come attraverso Dei pannelli Scorrevoli Della casa Giapponese Tradizionale Come noi La vediamo Certe volte Appunto Al cinema Questi Tatami Degli ambienti Rarefatti Questo però Non c'è Non c'è Niente di più Falso In un certo senso Perché naturalmente I giapponesi Vivono Con spazi Molto Ristretti Le case Nelle grandi città Sono carissime Però Gli stipendi Sono molto alti E poi c'è Una cosa da dire Che in Giappone Quando si esce Quando si finiscono Gli studi Quando si finisce L'università O istituti Tecnici O altro Il lavoro Si trova Immediatamente No andiamo avanti Allora Soltanto una piccola cosa Ancora Su questo Insomma Il lavoro I costi Molto alti Ce l'hai confermato Quindi è tutto vero Pregiudizi Quali sono? I pregiudizi Che noi abbiamo Verso di loro E quindi Essendo pregiudizio Poi non è vero Qual è il pregiudizio Più brutto Insomma Il pregiudizio Nostro Verso di loro Certe volte È quello Di vederli Così rigidi Noi li vediamo A volte Sembrano quasi timidi Sembrano Non affermarsi Nel senso Non esprimersi In realtà Questo è dovuto Soprattutto Alla lingua Perché non E ovviamente Anche all'educazione Che è fatta Di riservatezza E modestia Diciamo Queste sono Le qualità Delle persone Sono queste La capacità Di sopportare La pazienza Loro Nei nostri confronti Hanno pregiudizi In un certo senso Positivo Certe volte Li trovo Consolanti Perché noi Abbiamo la tendenza A dire Ecco qui Ormai è finita Va tutto male E loro Ci dicono Ma no Ma come L'Italia È un paese La loro visione Dell'Italia È quasi paradisiaca E noi E noi Abbiamo per loro Questa immagine Di persone Che riescono Poi a risolvere Tutto E che in un modo Nell'altro Ce la fanno Senti Un'altra A parte Ti arriva Un saluto Da un tuo amico Massimiliano Tranfo Ah certo Ti manda un saluto Adesso Ti sta seguendo Ci sta seguendo Ecco Un'immagine Anche questa È un'immagine La geisha Ah sì Allora Cosa significa Intanto questo termine Geisha Beh Geisha significa Artista Ne parli tu nel libro Un pochino Parlo anche di questo Perché il libro Copre un po' Anche la vita La vita Appunto abbiamo detto Il lavoro La famiglia La scuola E queste cose qui E poi naturalmente Quello che avviene Dopo il lavoro La geisha È l'intrattenitrice Ma gay sarebbe arte Quindi sarebbe Sono ragazze Che nel passato Ma anche adesso Sono veramente Artiste Nel senso che Studiano per anni La musica La danza Soprattutto E poi Uno studio particolare Che è quello Dello stare insieme Alle persone Nel senso che La capacità Di Conoscere Di Farsi riconoscere E di Facilitare La conversazione Tra persone Di solito Di altissimo livello Ovviamente Perché Questo Questo tipo Di intrattenimento È carissimo Tra l'altro Però quindi Sono veramente Delle artiste Aspetta Ma spiegami bene Anche questo Allora è un pregiudizio Perché noi Chissà Abbiamo sempre pensato A lungo Che la geisha Fosse un'accompagnatrice Un'accompagnatrice Insomma In qualche modo Una sorta Di escort Addirittura No No Lo potrebbe diventare Nel senso che Se qualcuno Decidesse Quando Loro hanno Il cosiddetto Sponsor A un certo punto Il danna Che sarebbe L'uomo Insomma Quello che Che le sponsorizza Nel vero senso Della parola Ma questa è una cosa Un po' Del passato Però Continua a esistere Cioè È un È un È senza tempo L'intrattenimento Con le geisha Con le maico Le maico Ma si entra Ci sono dei locali Dove le troviamo Le geisha Si entra Si entra Di solito Sono le famose Case da te Cioè Quindi sono Sono dei luoghi Ma non è che le geisha Siano lì Le geisha Appartengono A delle A delle case Che Dove Dove studiano Dove Iniziano Da lì Vanno A incontrare I loro clienti Per esempio In ristoranti Ovviamente Di alto livello Oppure Anche in dei bar La sera Ma sono tutte È chiaro che c'è Una grande Diciamo Eleganza In tutto questo Innamorarsi Di una geisha Beh Intanto Bisogna capire Com'è veramente Perché sono Praticamente Delle maschere I volti Sono completamente Dipinti Di bianco Ci si può Innamorare Della sua Intelligenza Dei suoi Movimenti Per esempio Della sua Capacità E allora Lì bisogna Cominciare A spendere Parecchio Per Per vincere Diciamo Per diventare Danna Danna Di una geisha Insomma Siamo Nell'ordine Di comprarle Almeno La casa E poi Una serie Di kimono Perché lei Deve sempre Cioè Praticamente Si diventa Dei Dei Finanziatori Dei mecenati In qualche modo Esatto È vero che Sono costrette A calzare Delle Delle calzature Strettissime Non è vero No Quello Non è vero Perché Quello Certe volte Ecco Questo è un Pregiudizio Per esempio Perché quella La fasciatura Dei piedi Quella cosa lì Più appartiene Diciamo Alla storia Cinese Continentale E poi Comunque Limitata A un certo Periodo No Anzi Devo dire Che Il vestire Dalla punta Dei piedi Diciamo Alla punta Delle dita Il vestire Giapponese Anzi È comodissimo Le geshe Portano Ci vuole molto A vestirsi Perché sono strati Su strati Di kimono Stiamo parlando solo Delle geshe Ovviamente Ma anche le signore Giapponesi Quando si devono vestire Ci vuole un pochino Ma portano Una cosa caratteristica Che tra l'altro Trovo eccezionale Perché sono come Dei calzini Fatti di cotone Bianchi Che si aprono E che hanno Una divisione Tra l'alluce E le altre dita Di modo da poter Poi calzare I zori Cioè questi Zoccoli Ecco O le gheta Addirittura Quando è inverno Per camminare Nel Nel fango Delle strade Immaginiamo Con tutte quelle cose Meravigliose Che avevano addosso Dovevano portare Delle specie Di zoccoli Altissimi Quindi Ecco La difficoltà È più quella Che non Calzare Insomma La comodità Del piede Mario Stiamo per chiudere L'ultima cosa Te la chiedo Per sintetizzare Alcune delle cose Che ci siamo detti Svelare il Giappone L'ultimo libro Di Mario Vattani Che piace molto E posso immaginare Anche il motivo Ci sono Stai facendo dei racconti Molto molto interessanti Ci incuriosisci molto Giunti editore Riassumiamo il libro In poche battute È un percorso In realtà È veramente Come dicevo prima È un percorso Attraverso Degli ambienti Che sono Degli argomenti Quindi io l'ho diviso Per argomenti Ma cercando di renderlo Quasi una Passeggiata E poi cercando Di dare il più possibile Sapori Colori Contrasti E cercando anche Di non nascondere niente Quindi anche La parte più buia Più inquietante Certe volte Del Giappone Quella un po' Misteriosa Che noi Conosciamo Attraverso Ecco Una letteratura Un cinema Che è Conosciuto Internazionalmente Ma che insomma Certe volte Non viene raccontata Grazie a Mario Vattani A presto Mario E chiaramente Ci tuffiamo Nella lettura Di svelare il Giappone Eccolo là Anche il libro Di Mario Vattani Noi vi ringraziamo Buona fine della settimana Tra poco Radio Radio Lo Sport